Io sono nato in Puglia, in Salento, quindi... E' abituato al caldo? E' certo. Come facciamo? Beviamo di più? Noi siamo vecchietti. Purtroppo è così, la vita va avanti. Più che accendere un ventilatore non si può. E' chiudersi in casa. E allora faremo di tutto per sopportarlo. Cosa dobbiamo fare? E noi siamo qua, vedi? Sì, usciamo alle 8 del mattino proprio per scappare da casa, quindi... E per lei, idem, stessa cosa. La teniamo al fresco, sta tranquilla in casa. Difatti lei cerca possibilmente il fresco. Un po' di... quel poco di corrente che riesco a fare in casa. Io preferisco piuttosto il fresco, ma però anche il caldo non è male.